Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La Liguria è interessata da un flusso umido da sud, innescato da una rimonta anticiclonica sull'Italia centro meridionale che determinerà la presenza di molte nubi e deboli piogge. Durante il fine settimana transito di una perturbazione con maltempo diffuso da Ponente verso Levante. Il dettaglio oggi mercoledì 3 febbraio cielo in prevalenza coperto con deboli piogge o più vigili, in particolare sul centro Levante. Brevi schiarite in serata sull'interno di Ponente. Venti in prevalenza moderati meridionali con locali raffiche fino a 40-50 km orari sul centro Levante e in prossimità dei capi esposti di Ponente. Mare mosso ovunque, localmente molto mosso sul centro Levante dal tardo pomeriggio sera. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nelle zone interne tra 7 e 12 gradi. Domani giovedì 4 febbraio coperto e brevi temporanee schiarite sull'imperiese. Deboli precipitazioni sul centro Levante al mattino. Attenuazione generale nel primo pomeriggio con possibile ripresa dalla sera tra il genovese e il savonese. Venti deboli meridionali al mattino in successiva rotazione dai quadranti orientali dal pomeriggio. Rinforzi serali dal nord-est a Ponente. Mare mosso il mattino per onda da sud-ovest in calo. Passaggio a poco mosso a Ponente in serata. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 9 e 12 gradi, nelle zone interne tra 5 e 7 gradi. Massime stazionari lungo la costa tra 12 e 16 gradi, nelle zone interne tra 9 e 13 gradi. Dopodomani veridì 5 febbraio al mattino molto nuvoloso coperto sul centro Ponente. Brevi schiarite Levante sull'imperiese. Deboli piogge o pioviggini possibili tra Genova e Savona. Nel pomeriggio cesseranno le precipitazioni. Brevi schiarite possibili ovunque verso sera. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali sul centro Ponente, con rinforzi da nord-est sull'imperiese. Deboli orientali e Levante. Mare poco mosso sul centro Levante, mosso per onda corta da est a Ponente. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 8 e 11 gradi, nelle zone interne intorno a 4 o 5 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 13 e 17 gradi, nelle zone interne tra 9 e 15 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'Agenzia. A risentirci! Grazie a tutti!